Il fichicometitoma è un tumore raro, è un tumore che è quasi sempre benigno, ma non sempre. È un tumore molto pericoloso, soprattutto se non viene riconosciuto. Ha dei sintomi molto variabili, questo è uno dei problemi ovviamente che ci sono in questa diagnostica. E qualche volta i sintomi sono molto comuni, tremori, palpitazioni, crisi pertensiva. Questo che supera magari un certo livello, questo può essere un sintomo molto importante. Ad esempio nei bambini, l'ipersodurazione notturna forse è l'unico vero segno di questa patologia, che può essere anche molto precoce. Quindi è un tumore raro, ma da scoprire. Perché se non si scopre il pericoloso, abbiamo avuto qualche caso nel quale l'induzione di anestesia ha provocato delle crisi ipertensive fatali, perché il fichicometitoma c'era, ma non era stato riconosciuto, e altri casi di morte improvvisa dal fichicometitoma. Ricordo i primi casi di fichicometitoma, diagnosticati quando ancora non c'era la TAC, non c'era l'ecografia, la diagnostica di laboratorio era discreta, ma ancora piuttosto grezza, e quindi la clinica era predominante. Oramai invece gli strumenti diagnosi sono tanti, veramente tanti, ed è più facile fare questo mestiere. La TAC ci aiuta molto, la risonanza magnetica dell'addome è lo stesso. Ci sono delle scintigrafie, o meglio delle PET, con la DOPA PET e DOTANOC, o DOTATOC, che sono veramente molto utili, oltre alla misura delle catecolamine, o forse meglio ancora, delle metanefrine urinarie. Una volta diagnosticato, lo si cura, sì, perché questo tumore è un tumore curabile, chirurgicamente principalmente, oramai si opera in laparoscopia, con un'intervento durata anche meno di un'ora, può essere rimosso il fichicometitoma. Attenzione, il paziente deve essere preparato all'intervento prima, somministrando dei farmaci alfa-bloccanti per ridurre l'effetto del rilascio improvviso di catecolamine. Per cui il tumore si cura bene con l'intervento, dopo l'intervento il paziente è guarito, anche se è importante continuare una sorveglianza, perché qualche volta c'è qualche sorpresa, e quindi vale la pena di vedere questi pazienti almeno una volta all'anno. Purtroppo alcune forme sono maligne, o si dimostrano tale nel tempo, però adesso esistono delle cure abbastanza efficaci. È stato presentato da poco ad una rassegna internazionale, uno studio che ho partecipato anch'io sul tempo, con un nuovo farmaco, per cui si aprono delle buone speranze per questi pazienti. Come si chiede se questo tumore è familiare? La risposta è assolutamente sì. Il feogomicitoma per almeno il 40% è ereditario, e quindi l'impatto della genetica nel feogomicitoma è assolutamente rilevante. Ci sono tanti geni di presupposizione, più di 14, alcuni più importanti, altri che si trovano solo in casi più rari, però chiaramente l'impatto della genetica è importantissimo. Devo dire con un po' di orgoglio che un paio di questi geni, T-MEM 127 e Max, sono stati scoperti con la mia collaborazione, grazie per la mia collaborazione, perché identificati nei miei pazienti. Quindi è stato un grande onore per me collaborare con ricercatori mondiali su questo. La genetica è importante perché ci consente di predire l'andamento della malattia, ci consente di capire se compariranno degli altri feogomicitomi nel corso della vita, ci consente di capire chi è familiare a questo rischio e quindi evitare complicanze e trattarli per tempo. I geni predisponenti al feogomicitoma sono anche predisponenti per un altro tumore, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre, che è il paraganglioma, che è un parente molto stretto del feogomicitoma, che però a differenza di questo si può localizzare in diverse parti dell'organismo. Qualche volta è chiamato anche chemodectoma, ma questa è un'altra storia che affronteremo poi in dettaglio.